ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay it questo è un video bonus un video di sabato un video che non ha a che fare con i giochi indie ma voglio parlarvi di death loop perché io l'ho visto giocare tanto prima di decidere se acquistarlo o meno e onestamente da tutti i gameplay che ho visto non ci ho capito una fava quindi alla fine l'ho preso su instant si trova qualcosina meno si trova sui 41 euro e 39 centesimi quindi una ventina di euro in meno rispetto al costo del gioco base e diciamo che dopo averci giocato qualche ora non tantissime dire la verità posso spiegarvi e spero di chiarire le idee anche a chi di voi magari è indeciso se prenderlo meno su che cosa da offrire prima di tutto iniziamo accediamo alla mia partita una partita che ha tre ore quindi non è avvantissimo ovviamente il protege il loop è una modalità in cui rompete le balle un altro giocatore un po come l'invasione in dark souls però ecco vi spiego a grandi linee che cosa vi troverete dovete cosa vi troverete di fronte insomma allora da che parte iniziare il death loop è basato su ovviamente la prima ora è un tutorial enorme quindi vi spiegherà tutto e non ci capirete molto è per questo che io faccio questo video il gioco fondamentalmente si basa sul nostro personaggio che colt doppiato in italiano il gioco è degli stessi sviluppatori di dishonored infatti si vedono tante meccaniche meccanismi un pochino anche di quei giochi voi siete colta questo ragazzo qui intrappolato in un loop temporale cioè praticamente alla fine del giorno il giorno ricomincia il giorno è diviso tra mattina pomeriggio mattina mezzogiorno pomeriggio e sera praticamente voi dovete scoprire come eliminare il loop che vi tiene ancorati a questo mondo e per farlo dovete iniziare giocando ovviamente dal tutorial andare ogni volta a scoprire dei dettagli in più questi dettagli in più li scoprite leggendo documenti ascoltando dialoghi all'interno di un momento della giornata ovviamente tutto viene catalogato quindi tutto viene documentato con tutti i documenti che trovate con tutte le scoperte che fate potete scoprire andare a rivedere quello che avete scoperto al mattino a mezzogiorno pomeriggio la sera tutte le informazioni tutti i dialoghi vengono salvati qui quindi io qui ad esempio ho scoperto che wengie la mattina e a mezzogiorno ha una fiaschetta di residuo quindi io posso andare nel luogo e dove io so che lei è in quel momento e trovarla dopodiché vediamo anche i luoghi in questo caso è il complesso quindi sapremo che tornando indietro sappiamo che qua nel complesso la mattina troviamo wengie la mattina o a mezzogiorno con quella fiaschetta perché ci serve il residuo ve lo spiego tra poco indizi sull'arsenale quindi abbiamo la possibilità di seguire all'inizio delle quest che ci permettono di recuperare tutto un tipo di equipaggiamento che adesso vi faccio vedere qua fondamentalmente ci metterà a contatto con i boss diciamo delle varie zone perché lo scopo ultimo sarà quello e qua è uno spoiler ma uno spoiler che vi aiuta a scoprire subito nel gioco per eliminare il loop dovete uccidere tutte le persone diciamo responsabili ognuno di una certa cosa all'interno di questo mondo di questa isola ma dovete ovviamente capire dove si trovano in che momento della giornata e quindi alla fine del gioco presumo dobbiate spostarvi da un posto all'altro per riuscire ad eliminarli tutti e questi sono i visionari di tutto quello che potete scoprire ve lo tengo lontano così non vi spoglierò nulla comunque in sintesi se voi selezionate un visionario vi fa seguirlo a queste quindi pian piano vi andrà a completare tutte le cose scoprirete dove si trova cosa fa quali sono le sue magari siete in un'altra zona totalmente diversa e uno parla di quel tizio allora qua verrà completato l'indizio poi cliccandoci sopra il gioco dice dove andare in questo caso selezionato quello mi dice di andare qua al mattino quindi in questo caso dovrei far passare la giornata ora vi passo al concetto un pochino più complicato tra virgolette l'infusione e l'equipaggiamento in sintesi quando voi ottenete degli oggetti gli oggetti sono vostri all'interno dello stesso giorno quando il giorno finisce dalla mattina ripartite sempre dalla spiaggia dal vostro rifugio trovate sempre gli stessi oggetti lì e gli altri che avete recuperato nel corso della giornata precedente non ci sono più quindi cosa dovete fare dovete all'interno della partita potete trovare degli oggetti fluttuanti una sorta di onda energetica la raccogliete ed è il residuo il residuo lo potete usare per infondere degli oggetti in sintesi che cosa vuol dire vuol dire che se voi avete recuperato degli oggetti in questo caso questa mettiamo questa pistola qui questo mitaglietta qui mi dice che vi serve 4000 per infondere se ottenete all'interno di un momento della giornata fate la vostra questo e riuscite a uscire vivi ovviamente quindi la completate piuttosto che non la completate ma uscite recuperate il residuo questo residuo lo spendete e quell'arma lì resta a voi come selezione dell'arma all'inizio di ogni lupo all'inizio di ogni sezione di gioco quindi quell'arma lì non la perderete più si parla di armi tavolette tavolette sono quelle i vostri poteri c'è solo un po da scoprire e le piastrine dei personaggi o e delle armi quindi e dei potenziamenti tavoletta tutte cose che trovate ve le usate ma se non le infondete alla fine del giorno quando ricominciate dalla mattina non le avrete più ovviamente sapete dove sono sapete dove andare magari questo cozza un pochino con le altre cose che dovete fare gli altri luoghi in cui dovete essere perché è bene che sappiate che ogni luogo è una fase della giornata ci potete rimanere quanto volete però quando uscite il gioco passa in automatico alla fase del giorno successivo ok potete tornare lì alcune cose alcuni personaggi non saranno più lì insomma c'è tutta una storia da scoprire quindi in sintesi io ho la mia dotazione che è divisa di armi delle tavolette che sono dei buff permanenti al doppio salto ad esempio oltre che la possibilità di mettere piastrine alle armi quindi un potenziamento singolare magari la ricarica più rapida l'ha in culo diminuito a un'arma e poi ovviamente le piastrine di potenziamento alle varie abilità io al momento ho il vincolo che praticamente mi consente di puntare un nemico che vicino ad altri vengono tutti connessi da un'onda magica ne uccide uno muoiono tutti la traslazione ovviamente che ve lo dico a fare se avete giocato a dishonored diciamo che lo sapete già inoltre abbiamo questa che ci viene data all'inizio potete morire due volte alla terza morte perdete quindi perdete tutto quello che avete ottenuto e passate al momento del giorno successivo credo se non che mi sfugge questa cosa che magari perdete il loop e quindi si perde tutta la giornata ecco questo è una cosa che devo ancora chiarire però insomma è un concetto superfluo nel senso che la base del gioco le cose che io non capivo erano queste quindi cosa faccio io al momento ho preso questa missione ma in realtà potrei andare a vedere qualcos'altro potrei andare magari a non lo so cosa succede gli indizi che ho raccolto nella fase di pomeriggio e ho ancora meglio posso andare decidere di prendermi questa tavoletta questa tavoletta qui dice di recuperarla a mezzogiorno quindi questo caso non lo posso fare proprio selezionare un'altra un'altra cosa proviamo a vedere la tavoletta questa qui carnesis vediamo accade di sera quindi anche qui di pomeriggio non va bene potrei vediamo un attimo sopra qui l'abbiamo il vincolo l'abbiamo già presa queste tre qui non posso fare nient'altro quindi potrei andare e magari a vedere altre cose vabbè insomma io posso anche solo iniziare una missione base qui ho gli indizi che ho raccolto giocando in quell'ambiente lì posso andare a cercare questi tizi qui che si incontrano di nascosto piuttosto che nel complesso la dottoressa Evans sta tenendo un esperimento letale insomma io quando inizio ve lo faccio vedere giusto così per scopo educativo ho scelto il mio equipaggiamento ho preso questa pistola che bella l'ho infusa infuso anche questo infuso anche questo e ho anche le mie piastrine qui il vincolo e la traslazione sono infuse quindi non le perderò più potete anche spendere e bruciare oggetti che avete recuperato per ottenere nuova potenza ma insomma io voglio farvi vedere il non un gameplay ma farvi vedere quello che è il il tipo di di gioco come funziona esattamente perché è importante anche quello il gioco tanti dicono che non si comporta bene da shooter in effetti l'intelligenza artificiale non è intelligentissima ma ve lo godete molto di più giocando lo stealth questo l'ho detto le recensioni l'ho detto tanti content creator e mi sento di condividerlo perché è vero però sono andato via abbastanza guerra fondario spesso mi sono divertito adesso qua noi usciamo questo è uno dei poi vabbè i dialoghi sono esilaranti adesso non vi commento nulla di quello che dice ci sono queste scritte qui che vi dicono vi danno un po di un po di indizi potete accherare cose elettriche elettroniche quindi torrette cose varie vedete io adesso ho la abilità di vabbè la traslazione non la uso vedete io adesso ho ascoltato e ho ottenuto premendo j mi viene dato un nuovo indizio su un dono e adesso non guardo nulla perché stiamo semplicemente giocando così io adesso potrei usare questa abilità qui però vedete che non è vicino a nessuno lui quindi aspetto che si avvicini a qualcuno e vediamo se riesco a usare il dono il la traslazione adesso vedete che sono tutti connessi io adesso basta che ne uccido uno e muoiono tutti ovviamente ho fatto casino quando vedete all'interno della partita adesso è sceso anche quello che mi ha sentito all'interno della partita la valuta diciamo che ci consente di fare infusione è messo in allarme tutto è quella sorta di sostanza violacea fluttuante che adesso forse non riesco a farvi vedere perché non ne trovo eccola qui vedete questa qui io vado a assorbirla e ottenuto dei punti adesso ho usato questo cosa e muoiono tutti e due ovviamente vi sto facendo vedere come non giocare a death loop perché perché adesso mi sto un pochino divertendo voglio fare un po di casino ma in realtà meccanica sarebbe alta adesso io prendo il mio oggetto che mi permette di overclockare ho sparato per sbaglio è solo overclock o mi nascondo quindi quella torretta diventa verde e quindi diventa a nostro uso e consumo possiamo spostarla oppure quando incontrerò un nemico di tutti quelli che mi stanno inseguendo in questo momento avremo modo di farla sparare a loro cioè sparerà in automatico adesso volevo farla stealth ma ecco qui sono morto rimane assegnato e ho ancora una morte ancora e alla quella dopo avrò perso praticamente tutto ci sono dei fuochi d'artificio perché so che in una zona c'è un tizio che si diverte a fare fuochi d'artificio quindi sarà un indizio diciamo per uccidere determinate persone io sono morto prima quindi ho perso tutto il residuo che avevo quindi devo recuperarlo dal mio corpo quindi quello che faccio in questo momento ok l'ho ottenuto adesso vedete che io mi muovo furtivamente e posso andare a uccidere le nome ad leggo questo a quello e poi li uccido vedete che sono morti tutti adesso io sto facendo un gran casino perché volevo ucciderli stealth ma non ce l'ho fatta vi dico solo che io finora ho giocato praticamente stealth eccolo qui vedete gli uccidete stealth poi l'arma vi si inceppa quindi dovete premere una volta e lui perderà un sacco di tempo per cercare di disincepparla ok sì adesso sto facendo tutto quello che non bisognerebbe fare all'inizio come ultima cosa che vi dico potevate difendere il loop o spezzare il loop cosa significa che c'è una modalità online in cui voi potete entrare nei panni di un personaggio che è uno dei più carismatici che ci darà sempre fastidio e interpretarlo voi e quindi rompere le balle un giocatore questo non capiterà spesso verrà deciso dal gioco però poi lo shooting mi dà comunque una buona soddisfazione nemici ce ne sono tanti e ovviamente non va giocato di fretta non va giocato sparando a destra a sinistra insomma quindi vedete che questo qua è l'uscita quindi io tecnicamente potrei già uscire e portarmi a casa quel poco che ho guadagnato ma non ha senso in questo caso perché io dovrei andare ascoltare scoprire cose dovresti giocare di più loop per ottenere tutti gli indizi necessari per poter uccidere le persone però è figo perché potete diciamo affrontare le varie situazioni in più modi potete uccidere i vostri bersagli un po alla disonare quindi magari che sto attivando un complicato sistema avvelenando tutti oppure scoprite che c'è una password che resta sempre la stessa oppure scoprite che in un codice viene cambiato ogni loop ma sapete anche dove andare recuperarlo perché ogni loop è la copia del precedente quindi qua diceva rompire le loro macchine non so che cosa ogni cosa magari potrebbe dare inizio a un qualcosa a un evento o qualcosa ecco il gioco non è sicuramente un gioco tipico usuale insomma è un po strano e ci tenevo a fare questo video un pochino per spiegarvi quello che è il gioco perché ci ho messo comunque una retta prima di comprenderlo quindi non non è senz'altro facile vedete adesso qui cambio metto traslazione e vedete che uso traslazione me ne vado c'è l'energia che deve risalire quindi devo uccidere qualcuno per far risalire l'energia però ho il doppio salto me ne posso andare in questo modo e pian piano vado a esplorare le varie cose qua mi fa già andare l'uscita vedete io adesso vado all'uscita inserisco il codice che conosco già lo scoprite all'inizio e poi decido di andarmene non ho fatto granché vi ho fatto vedere ho buttato via un loop però alla fine ho già infuso le cose che voglio tenere quindi non è un grande problema anzi mi fa comodo tornare al mattino perché alcuni alcune tavolette che voglio sbloccare si sbloccano solo al mattino ovviamente mentre andate a farlo scoprirete altre cose pian piano andranno ad aggiungersi comunque la mia preoccupazione in questo gioco era non mi ricordo chi fa cosa chi è chi in realtà sono personaggi abbastanza estremizzati abbastanza stravaganti tanto che ve li ricorderete molto semplicemente ecco questo ragazzi era detto dice come sono morto le varie morti ho recuperato un po di un po di cose ho recuperato anche qualche indizio dire la verità un paio di indizi l'ho visti quindi adesso siamo a sera l'ultima parte del loop della giornata ho recuperato vedete andando in dotazione premendo spazio residuo no non ne ho perché probabilmente non l'ho più recuperato dall'ultima volta quindi niente pazienza tanto tutto quello che ho qui è tutta roba infusa quindi mi rimarrà andrò avanti qua in alto potete andare a scegliere se giocare solo amici solo giocatore singolo oppure online quindi permettere o meno ad altri di entrare e rovinarvi non mi è mai successo finora in 3 4 ore non mi è mai successo però una volta entrata un personaggio ma era penso gestito dal gioco comunque questo era una rapida introduzione e spiegazione su quello che è death loop fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate se vi ispira come concetto a me quello del loop temporale è sempre un concetto che mi ha sempre ispirato tanto fatemi sapere e alla prossima e ciao ciao e buon weekend